Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca incidente questa mattina poco prima delle 9 all'imbocco del sottopassaggio di via Baldaccio d'Anghiari ad Arezzo. Una ciclista è stata travolta da un'autovettura sul posto e intervenuta al suo soccorso. Un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e la Polizia Municipale per i rivievi di legge. Per alcuni minuti il traffico della zona è rimasto congestionato e si sono formate alcune code poi smaltite in breve tempo. Andiamo a parlare dell'aggressione di Indicatore. È stato operato nella notte fra martedì e mercoledì il giovane ferito nella notte in una aggressione ad Indicatore ma le sue condizioni restano ancora molto delicate. Si trova in rianimazione all'ospedale San Donato di Arezzo in prognosi riservata. Non sarebbe però in pericolo di vita, però si tratta sicuramente di tentato omicidio. Delle indagini gli inquirenti avrebbero già una pista per risalire a chi ha sperrato i numerosi fendenti che hanno raggiunto il trentenne al collo, alle braccia e soprattutto all'addome. Le primissime ricostruzioni porterebbero a pensare che sia stato un uomo da solo a compiere il gesto. L'arma usata potrebbe essere un coltello o un taglierino, addirittura un collo di bottiglia rotto. Il mistero anche sul movente, come per l'episodio di Campo di Marte, si indagherebbe nel mondo della droga. Nel passato del trentenne, infatti, ci sarebbero precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Passiamo al processo Coingas, perché a 90 giorni dalla sentenza del processo che ha scosso la politica retina sono state depositate le motivazioni. Nello stesso giorno sono arrivate le dimissioni dell'amministratore unico di Coingas, Franco Scortecci. Chiara Salotti. Tutta la vita è fatta a cicli, no? E poi anche gli allenatori di calcio, dopo che hanno vinto uno scudetto, preferiscono uscire in bellezza. Dopo quattro anni da amministratore unico, Franco Scortecci, si è dimesso e ha deciso di farlo nella giorno in cui ha ricevuto le motivazioni della sua assoluzione nel processo Coingas. L'accusa era quella di favoreggiamento per le consulenze d'oro. È stato ritenuto innocente perché non avrebbe, secondo il giudice, avuto alcuna consapevolezza del reato commesso. È venuto palesemente fuori che il nostro operato era finalizzato comunque a rimettere a porto i conti. Sicuramente in una situazione molto, molto delicata, con cose che non tornavano neanche a noi. Però l'obiettivo nostro era quello di chiudere comunque il bilancio perché c'era una responsabilità di non bloccare il territorio nei 27 comuni. Il mio operato era finalizzato a rimettere a porto una società che era disorganizzata, non c'era niente. Oggi ho attivato tutte le procedure ANAC anche nell'incertezza se fossimo meno obbligati a ciò. Però mi sembrava giusto che una società come questa attivasse le procedure in trasparenza. Quindi ho fatto l'amministratore come ho sempre fatto in vita mia. Mi sono divertito e in più ora la mia soddisfazione è che da giorni parte qui nel campo di addestramento di Coingas e di Centria la sede nazionale di ricerca e sperimentazione per conto di Enea con l'università sull'idrogeno e le energie rinnovabili. A poco meno di 90 giorni dalla sentenza del processo Coingas che vedeva la sbarra a nomi eccellenti della politica retina sono state così depositate le motivazioni. 158 pagine dove vengono spiegate le ragioni delle quattro condanne delle sette assoluzioni. Dunque il sindaco di Arezzo Ghinelli condannato a tre mesi per favoreggiamento sarebbe stato a conoscenza dell'accordo tra Bardelli e Amendola, secondo il tribunale un patto corruttivo. Per lo stesso fatto erano stati condannati anche il consigliere comunale e l'ex presidente di Arezzo Multiservizi. Era stato condannato a tre anni per peculato invece l'avvocato fiorentino Pierettore Orivetti Razon. Secondo il giudice parte delle consulenze da lui svolte non sarebbero state infatti legate solamente alla partecipata. Sulla nomina di Macri infine alla presidenza di Estra assolto con formula piena, per il giudice non ci sarebbe stato dolo un elemento fondante per l'abuso d'ufficio. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti esteso a tutta la regione con validità fino alle ore 22 di questa sera. Inoltre permane ed è prolungato a tutta la giornata di domani il codice giallo per rischio idrogeologico anche nell'Alto Mugello, temporali sparsi più probabili sulle province di Siena, Arezzo e Finanze. Domani prosegue l'instabilità pomeridiana con rovesci temporali sparsi localmente forti, più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali possibili, i colpi di vento e grandinate. E passiamo alla vertenza FIMER con l'infiato sospeso ed ancora scioperi. Questa mattina alle ore 10 fino alle ore 12 i lavoratori hanno incrociato le braccia in concomitanza con l'incontro tra i rappresentanti dei lavoratori, il CDA dell'Agenda e il CRO di Greibull Capital e McLaren. Sentiamo. Ancora oggi, nonostante ci sia l'investitore che conferma la volontà di intervenire, nonostante la situazione in qualche modo tende ad aggravarsi, anche se è rientrato General Finance con la finanza d'emergenza, ancora non siamo giunti all'accordo e quindi abbiamo ribadito alla proprietà che non c'è tempo da perdere. Ancora a fiato sospeso per le sorti della vertenza FIMER, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini specializzata in prodotti per il fotovoltaico. Ci sono 280 persone che per la nostra comunità valdannese vuol dire tantissimo, sono 280 famiglie. Sulla base di questa responsabilità noi stiamo continuando ad agire con tutti gli strumenti che ci vengono dati. Questa mattina, fuori dai cancelli, due ore di sciopero, mentre all'interno dello stabilimento valdarnese si è svolto l'incontro tra i rappresentanti dei laboratori, la regione, il comune di Terra Nuova, il CDA dell'azienda e Greibull McLaren. Manca infatti, ancora oggi, l'accordo tra le parti. Il Consiglio d'amministrazione ci dà delle date. Loro domani presenteranno al Tribunale istanza per l'autorizzazione dei 10 milioni e insieme all'istanza presenteranno le linee guida del nuovo piano concordatario. Il piano concordatario, nella sua interezza, dovrà essere presentato entro il 31 di maggio e dentro il 15 di giugno dovrà essere trovato, da una parte, l'accordo con McLaren e dall'altro ci deve essere già l'iniezione da parte dei 10 milioni. A fronte di queste date che ci dà il Consiglio d'amministrazione, noi abbiamo dato la nostra, invece, scadenza e data, che è quella. Il prossimo mercoledì mattina, alle 10, rifacciamo un incontro. Siccome già anche oggi alcune divergenze tra McLaren e il CDA sono state risolte e è stato fatto un passo avanti per poter arrivare all'accordo, non c'è più scuse. Il nodo della questione è infatti legato ai 10 milioni di euro che il colosso inglese si è impegnato a versare per far ripartire in sicurezza allo stabilimento, ma il gruppo Greibull McLaren vuole garanzie. Io confido che dopo le responsabilità macroscopiche che si sono assunti, trascinando questa azienda nella situazione in cui versa, non si vogliano assumere la responsabilità delle responsabilità, cioè quella di mettere, diciamo, una pietra tombale su una vicenda che non se lo merita. Io sono certo che non intenderanno assumersi questa responsabilità. Nel caso noi vigileremo. Parliamo adesso della bretella della Due Mari E78, rinviato il termine al 22 giugno per le osservazioni al piano di completamento che ha coinvolto diversi cittadini negli espropi per la realizzazione del tracciato. Greta Settimelli. Ci sarà tempo fino al 22 giugno prossimo per presentare le osservazioni al piano di completamento della E78 riguardo il nodo di Arezzo, che aveva in virtù degli espropi previsti creato non poche preoccupazioni tra la popolazione residente delle zone interessate. Il commissario straordinario al completamento della E78, Massimo Simonini, ha incontrato nelle scorse ore presso la regione toscana l'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli alla presenza dell'assessore Francesca Luccherini e dei tecnici delle rispettive strutture. Nell'ambito dell'esame dell'iter amministrativo dell'otto Sanzeno Arezzo, Simonini ha chiarito che il termine di presentazione delle osservazioni da parte dei privati in merito alle procedure di esproprio decorre dall'ultima pubblicazione, ovvero è da intendersi al 22 giugno 2023. La scadenza fissata del 22 giugno è un importante risultato che ci consente di partecipare alla conferenza dei servizi, ha detto Ghinelli, con proposte studiate e valide, delle quali il Comune si farà portavoce. Siamo consapevoli che l'opera in questione sia indispensabile, non soltanto per il nostro territorio, ma per l'intero collegamento infrastrutturale e nazionale, siamo altrettanto soddisfatti che finalmente sia diventata concreta. Ugualmente dobbiamo agire in difesa del nostro territorio e a tutela dei nostri cittadini. Siederemo al tavolo tecnico della conferenza dei servizi portando il nostro contributo. Ghinelli infine invita i cittadini che sono stati raggiunti dall'avviso di avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a valutare eventuali interferenze con la loro proprietà e ad avanzare apposita istanza all'ANAS per la mitigazione degli effetti negativi. La ASL Toscana Sud-Est ha attivato una procedura di pubblico avviso di selezione per il conferimento di un incarico di 5 anni come medico di struttura complessa nella disciplina di emergenza, urgenza e anestesia e rianimazione per la direzione della centrale operativa del 118 dell'area provinciale Aretina. La selezione è stata bandita a causa del prossimo pensionamento del dottor Massimo Mandò che fino ad oggi ha ricoperto questo incarico. Al Museo d'Arte Medivale e Moderna una mostra dedicata a Margarito D'Arezzo, uno dei massimi interpreti della pittura del 200. Per l'occasione è arrivata anche un'opera proveniente dal Santuario di Santa Maria delle Vertighe. Chiara Sadotti. Rappresenta la Madonna col bambino in trono con quattro storie della Madonna ai lati nei registri superiori e inferiori e ai lati sul laterale sinistro due sante e un santo condottiero e sul laterale destro invece abbiamo un diacono Sant'Antimo probabilmente e Sabino e Donato, i due vescovi. È considerato uno dei capolavori della pittura italiana del 200, il Dossale delle Vertighe, un'opera di Margarito D'Arezzo. Il dipinto è stato realizzato tra il 1280 e il 1285. Che ha molte influenze ancora bizantine però prelude molto all'arte che poi sarà l'arte italiana, diciamo così l'arte naturalistica e poi sboccerà con Giotto. L'opera completa esposta al pubblico nella chiesa del Santuario di Santa Maria delle Vertighe dopo quasi 30 anni è tornata temporaneamente al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo. L'occasione è molto importante di vederla molto meglio, l'occasione è dovuta al fatto che alle Vertighe vi sono dei lavori in corso che hanno consentito e ringrazio per questo la comunità francescana di Betania che è la provincia dei frati minori francescani che hanno accettato di consegnare per un periodo ovviamente quest'opera a questo museo. Anche perché in questo museo, nell'ambito di queste sale che sono dedicate al Medioevo, quest'opera dialoga in maniera diretta con le altre opere di Margarito di Arezzo che noi da sempre conserviamo nel Museo della Madonna di Montelungo e due San Francesco. L'esposizione sarà visitabile sino al prossimo 29 luglio, un evento che segna un'importante tappa nel rilancio delle attività del Museo di Arte Medievale e Moderna che entra a far parte da adesso del gruppo dei musei statali per i quali è previsto un biglietto unico che consente di visitarli tutti. Sarà sia per la mostra di Margarito che per il museo stesso. Il museo rientra a pieno titolo nel circuito dei musei statali quindi fa parte del biglietto unico e farà parte anche del biglietto unico una volta messo a pagamento anche questo. È un bel museo, è un museo che deve essere reso più fruibile rispetto al passato, ci stiamo adoperando per questo e già gli accessi sono aumentati. E cambiamo argomento, torna a vestirsi a festa a Piazza Grande nella giornata di domani 26 maggio saranno effettuate le prime operazioni di montaggio degli scudi che come ogni anno contribuiranno a rendere ancora più affascinante da adesso e fino a settembre la piazza che da sabato 17 giugno accoglierà la 143esima edizione della giostra del Saracino dedicata a Luca Signorelli. Il lato nord del loggiato vasireano ospiterà i simboli del comune di Arezzo dei quattro quartieri, il lato est tra piaggia di San Martino e Borgunto, gli stemmi del comune, le bandiere dei quartieri in ordine di estrazione delle carriere e lateralmente gli stemmi di alcune nobili casate retine del Trecento e dei castelli del contado. Nel lato sud troveranno posto gli stemmi delle altre nobili casate ed infine il lato ovest del palazzo di Fraternita ospiterà i simboli del potere istituzionale dell'Arezzo dell'epoca, cioè gli stemmi del comune, della città, del popolo, oltre agli stemmi della parte welfe e ghibellina, del capitolo del Duomo, della Pieve e del Vescovo Tarlate, oltre a quello della Fraternita dei Laici. Parliamo di Scuole Viaggianti, un progetto educativo promosso da Estra che ha coinvolto più di 40.000 bambini di 5 regioni diverse. La scuola dell'infanzia Bernabè di Camucia il premio speciale a base di teatro. Greta Settimelli. uno spettacolo teatrale dal titolo Il Grande Sconquasso, quello che rischia seriamente il nostro pianeta se non riusciremo davvero in una importante inversione di rotta. Intanto i bambini della scuola dell'infanzia Bernabè di Camucia nel Cortonese hanno accolto con grande entusiasmo il premio speciale a base appunto di teatro che si sono aggiudicati vincendo il concorso Scuole Viaggianti, il progetto sull'educazione alla sostenibilità di Estra. I ragazzi hanno lavorato sul tema della sostenibilità ambientale, sul tema dell'energia pulita, sul tema di una città ideale, chiamiamola così, che possa essere il loro futuro habitat dove chiaramente vivere in armonia con quello che è il territorio, con le vocazioni territoriali e possibilmente ad emissioni zero. Probabilmente i bimbi che oggi hanno 3, 4, 5 anni magari noi ci auguriamo lo vivranno e lo vivranno dal punto di vista olistico, quindi a 360 gradi. Noi come generazioni presenti non possiamo far altro che sviluppare questa tematica. Abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità che Estra abbia scelto questa tematica, quindi per noi questo è già un grande segno di attenzione e insieme con questo tipo di istituzione che opera nel settore dell'energia e con l'amministrazione comunale si cerca di inculcare questo tipo di cultura e mentalità che i bimbi peraltro hanno già un po' implicitamente di per sé. E poi speriamo che, io sono tendenzialmente ottimista, generalmente le generazioni future sono sempre un po' avanti rispetto a quelle passate, quindi spero che sia così. Il progetto ha coinvolto più di 40.000 studenti, 833 scuole di 5 regioni e 3 differenti ordini scolastici, un viaggio davvero unico, ricco di sfide, contenuti e attività alla scoperta degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030. Sì, devo dire che ovviamente è una frase sentita ma sono il nostro futuro, quindi il fatto di proiettarli verso l'Agenda di Sostenibilità Ambientale 2030 è una cosa in maniera divertente, in maniera adatta alla loro età. Dico che è una cosa opportuna perché appunto saranno loro poi a gestire questo futuro e speriamo di lasciargli un territorio meno violentato e con problematiche anche ambientali meno marcate di oggi. E rimaniamo in Valdichiana, seconda uscita dei carri della maggiorata lucignadense stasera a partire dalle ore 21.30. I carri fioriti che sfileranno sono realizzati dai quattro cantieri, ci sarà l'esibizione dei gruppi folcloristici e bande musicali. Domenica 28 maggio invece a partire dalle ore 16 e giovedì 1 giugno dalle ore 21.30 si terrà la storica battaglia dei fiori con la proclamazione del carro vincitore dell'edizione 2023 della Vangelata. Il tema scelto per questa edizione è Scene del Settecento per un tuffo nel passato senza precedenti. La festa di Lucignano ha coinvolto 300 volontari su una popolazione di 3.500 persone. E andiamo al teatro Petarca perché ieri sera è andato in scena il saggio finale del progetto Cresciamo in Coro, nato con l'obiettivo di creare un coro integrato dove al canto si unisse il linguaggio dei segni lisse. Chiara Sadotti. Le piccole manine avvolte da guanti bianchi per cantare un messaggio forte e chiaro è possibile crescere insieme e superare ogni diversità. 300 i piccoli cantori dell'istituto comprensivo Piero della Francesca che si sono esibiti sul palco del teatro Petarca per il saggio finale del progetto Cresciamo in Coro. Hanno lavorato sia di tecnica vocale, hanno imparato a intonare, a fare esercizi ritmici e soprattutto quello che è stato bello è stato fare il coro insieme. Il nostro scopo è trasmettere la bellezza dello stare insieme, del noi e non dell'io e affiancati però ad un altro elemento molto importante per la nostra associazione che è appunto il linguaggio dei segni, la lingua dei segni. Durante le nostre lezioni, oltre ad insegnare i brani musicali, comunque le tecniche di respirazione, i vocalizzi, abbiamo insegnato anche la grammatica della lingua dei segni, la struttura della frase e quindi i bambini facendo musica si sono avvicinati alla LIS, la lingua dei segni italiana, sembrano due mondi così lontani e invece grazie al progetto Mani Bianche questi due mondi, musica e silenzio, si sono avvicinati. Andiamo allo sport, cominciando dal calcio, l'Arezzo dopo il rompete le righe di ieri con l'ultimo allenamento dell'Arezzo è stato ufficializzato il rinnovo del contratto per i giocatori Lorenzo Polvani e Mattia Gaddini. Lorenzo Polvani ha rinnovato per due anni con scadenza 30 giugno 2025, Mattia Gaddini ha sottoscritto un accordo di durata triennale con scadenza 30 giugno 2026 con opzione per il quarto anno. Intanto sono già certi di rimanere in Amaranto anche per la prossima stagione il capitano Settembrini, Castiglia, Risaliti e Pattarello. Tra i pali potrebbe essere confermato anche Luca Trombini e dietro il neo Cavallino d'Oro Lazzarini. Tra gli under potrebbe essere riconfermato zona e non escluso che Giovannini possa dare ancora fiducia anche a Poggesi. In mediana si cercherà di trattenere Damiani rinnovando il prestito con l'Udinese. In attacco il direttore generale valuterà anche la permanenza di Gucci. Scelta intanto per la prossima stagione la seconda maglia con cui giocare in Serie C. La seconda maglia è in occasione ovviamente del centenario per la quale si è votato in queste settimane. Sarà bianca con colletto inserti in maniche Amaranto e una banda diagonale dalla spalla sinistra al fianco destro di colore Amaranto attraversando il logo scelto per il centenario della società. Una maglia simile di Larezzo l'aveva indossata negli anni tra il 1966 e il 1969 solo che la banda trasversale scendeva da destra verso sinistra. Andiamo al basket perché con la vittoria della SBA in gara 2 playoff ieri in trasferta contro la Toscanini di Prato opziona un passo avanti verso la promozione. La gara 3 si giocherà al palasport extra Mario Dadagata. Ma sentiamo com'è andata ieri sera. Blitz esterno dell'Amen scuola baschetta Rezzo che sbanca la Toscanini di Prato al termine di una partita intensa che gli Amaranto hanno saputo portare a casa con grande determinazione per 81 a 73. L'Amen coglie così un preziosissimo successo in trasferta e pareggia una serie che come hanno dimostrato le prime due partite è super combattuta. Sabato sarà il palasport extra ad ospitare gara 3, la prima davanti ai sostenitori Amaranto. Sì, siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati prima di iniziare questa serie. Riuscire a portare a casa una delle due partite di Prato è stata veramente dura perché abbiamo di fronte un avversario di sicuro livello. Ha delle caratteristiche che possono metterci in difficoltà, specialmente vicino a Canestro. Siamo stati veramente bravi a trovare le giuste contro misure. Ovviamente è una finale quindi il percorso è ancora lungo e soprattutto è una serie molto equilibrata come era stata quella di Colluca in semifinale. Però ovviamente abbiamo un po' più di fiducia adesso visto che dovremo giocare due partite davanti al nostro pubblico. Ovviamente tra l'altro giocando a Prato in una palestra piccola ma veramente con un tifo caldissimo speriamo che anche qui ad Arezzo si possa avere veramente un grande pubblico. Abbiamo un impianto che può fare la differenza. Gara 3 ci sarà sabato alle 18.30 mentre gara 4 è mercoledì alle 21. Ovviamente in una serie alle 5 partite gara 3 è quella che ha un peso specifico notevole perché ovviamente darà a una delle due squadre il punto, la possibilità di giocarsi subito un match point promozione mercoledì sera. Quindi lotteremo come abbiamo fatto ieri contro anche alcune avversità perché purtroppo nel secondo quarto si è infortunato Fornara che è il nostro riferimento offensivo però abbiamo saputo reagire quindi lotteremo su ogni pallone per cercare di prendere questo punto. Ritorniamo al calcio ma quello amatoriale, quello della Wisp ha segnato in questi giorni i vari trofei per quello che riguarda il calcio a 11 si è aggiudicato il campionato la squadra dello Stella Azzurra, quello del calcio a 5 e la squadra del Colcitrone mentre per lo special futsal si è disputata la quinta ed ultima giornata 2022-2023 al palazzetto dello sport di Marciano della Chiana con il campionato che ha visto come protagonisti utenti della salute mentale, operatori e volontari del terzo settore. Sentiamo. Ieri sera si è disputata la quinta ed ultima giornata del campionato provinciale Wisp Special Futsal 2022-2023 di calcio a 5 al palazzetto dello sport di Marciano della Chiana, il campionato che ha visto come protagonisti utenti della salute mentale, operatori e volontari del terzo settore. La stagione è cominciata a dicembre a sancito la vittoria delle associazioni Electra Centro Clà di Arezzo e Arcadia di Terra Nuova Bracciolini che hanno ottenuto il primo piazzamento d'Exepo, terza classificata l'associazione Colle del Punta di Arezzo, quarto il tallone di Achille di Bibbiena e quinto il CAM di Teronto la Cortona. Le cinque giornate si sono svolte disputando le partite in un'unica serata a cadenza mensile con un girone all'italiana e conseguente classifica. Al termine di tutte le giornate è stata stilata la classifica generale che ha permesso di stabilire la gradatoria finale definitiva. Una serata di festa che si è conclusa con le premiazioni, coppe per ogni squadra e medaglia per ogni atleta e per il direttore di gara Frisone e Grotti. A distribuire vari premi erano presenti dei dirigenti Wispi, Laria Ciofini e Marisa Vagnetti. Al termine di tutto foto di gruppo rinfresco con brindisi finale. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, buona serata a tutti voi. Grazie a tutti.